Dove eri? Qua? Ecco, ecco, per un secondo, passiamo questo circolo qui, riempiamo qui, bambini, perché le caramelle dovranno cadere finite dentro da l'Iraq, l'Aquilone è già scosso, ovvio, e lì sarà collegato ciò che dico, chiaramente il vento, arrivando da nord, diciamo, sia scusso, pot ARG, così libera, 3 Central, are you saying you, come non vedi a te 10, come non vediuto con il coração. Oggi sono troppo sociali, ciò che magari vuole, a casa mia sconione, un' börgo che riesce da fare avanti a favorito di San Lucio, come non vedi lo duplicare che non italiano lo destinano faranno in questo caso, in un stato molto francese a